e bentornati ragazzi siamo sul nostro minecraft obiettivi ricordo per chi non c'era dovremo fare una casa di ben 300 blocchi ho già recuperato tutta la cosa che ho perso nello scorso episodio insomma un fail epico fin episodio che non poteva mancare ok perciò siamo andati in miniere abbiamo preso un po di materiali adesso vorrei un attimo scioglierli e fare delle belle cosine perché siamo qua ah sì perché una grotta un po strana questo si connette dio mio ok adesso insaliamo ok siamo arrivati alla nostra casetta che non è tanto una casetta però ok qua è aperta e non mi piace eh mi dovrei perché qua potrebbero cadere dei mob cioè non è che è il massimo lascerei soltanto un po di spazio ok qua abbiamo la nostra fornace ok siamo tanto tra tanto basteremo pure per altri materiali tanto facciamo così per il nostro primo blocchetto di il nostro primo blocchetto di 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 il nostro primo lingotto di ferro ok abbiamo un sacco di materiali inutili allora poi la zappa non può mancare ok questo allora ce l'ho una ceste ah no non me la sono creata ancora ah sì ce l'ho la devo soltanto piazzare perché due crafting chest così a random comunque sì se abbiamo quasi raggiunto 60 iscritti manca solo un iscritto sono contento allora tutti questi materiali che non useremo questo ce l'ho di no questo forse ci potrebbe servire per delle torce questo non ci serve 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 torce ci servono mettiamo la mano come a vero diventata notte pizza io odio il notte mazzo sembra un santuario ok eeeh mettiamo qua proprio questo non so nemmeno cosa sia questo 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 con forse ci servirà per farci dei pillar poi dopo ci mettiamo pure questo non prendere dell'altro sì non mi piace tanto questa grotta spero che oggi ci faremo una casa si suona strano al dirsi che ci faremo una casa però ok qua chiudiamo perché come ci ha insegnato l'altra volta è meglio chiudere prima di fare cose qua ci sarà una grotta da esplorare adesso noi intanto scendiamo giù ok qua è un sacco ok scendiamo nella grotta spada alla mano spada alla mano ah ci sono ancora dei miei materiali che io usai l'altra volta ok possiamo scendere sì ok uccidiamo quello zombie che mi da poca fiducia dopo ok mettiamo delle torce così non spawnano mob vabbè che ve lo devo insegnare io sta roba io sono un nabbo si è bugato oh no oddio oh mio dio dobbiamo mangiare assolutamente no no questa qua va a finire come l'altra volta lo dico io lo dico io lo dico dobbiamo spargere di torce come se non ci fosse un domani ecco qua era la parte dove abbiamo preso il ferro però c'erano un sacco di mob poi c'erano un altro zombie noi illuminiamo poi dopo torneremo indietro per prendere delle cose si torce ci sono perciò niente mob mangiamo della carne non ci farebbe bene però è per recuperare giusto quel poco di vita che ci serve ragazzi sono io credo che credo che questa estate porterò un sacco di video ragazzi perciò state aggiornati comunque si ci sono intanto pure i video in inglese stanno andando molto bene allora uno ha fatto già 89 views ok mamma mia che quanto ferro questo qua ci serve tanto ma tanto proprio in un modo così ci facciamo tutti gli oggetti di ferro e magari pure un'armatura da quello che ok spada alla mano ragazzi non vorrei che abbiamo soltanto quattro cuori perciò non vorrei assolutamente ok mangiamo un altro pezzo guardo che nabbo mangia la carne così di zombie senza insomma un domani ok andiamo tanto il mio piccone si sta vabbè tanto quando finì torneremo su quando finirà il piccone così almeno lo rifacciamo ok torcia la mano stavo prendendo la spada ok là c'è un continuo poi dopo là c'è un pezzo di ferro che non sarebbe male da prendere però oh ma so oggi siamo fortunati in un modo ovvio sarebbe meglio del diamante così però tanto il diamante sarà molto giù ok qua saliamo ok abbiamo trovato un altro pezzo di ferro e a voglia sì perciò allora io direi di farci l'armatura così almeno quando abbiamo fatto l'armatura cose no ci ci credo che saremo pronti per farci la casa incominciare almeno incominciare dico per farci la caduta ben 300 blocchi che sono una marea credo che non li ho mai trovati nemmeno tra 300 blocchi guarda io infatti a minecraft non ci gioco tanto per questo io infatti giocherò a fifa ho preordinato ecco questa è quella dovevo dire ho preordinato fifa 18 l'icon edition quella che proprio costa un botto 100 euro ragazzi però intanto io fifa cioè ci gioco non c'è nemmeno cioè se tu chiedi che gioco che gioco sto facendo ti risponderò sempre fifa a meno che non sto facendo un video e varierò oddio un creeper e morirò 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 io con i creeper sono una pippa mondiale ecco lo sapevo cioè io i creeper non andiamo proprio d'accordo come ve l'ho detto Dio mio io i creeper li odio in un modo mi hanno pure fatto sprecare una torcia sti creeper ok perciò si adesso dovremmo andare su vediamo se ah un altro cosa ah no qua è un ruscello cosa? perchè un ruscello così a random totalmente a random poi boh sto mondo è molto strano no non ha niente cioè se è tipo un generatore di mob che li porta giù che strano beh meglio che non ci siano mob ok perciò abbiamo ancora il piccone siamo ancora in mini era ragazzi ehm perciò si si questo video non durerà tanto si infatti allora io direi di tornare oddio ragazzi credo che dobbiamo finire il video perchè come un nabbo sono riesploso perciò ragazzi abbiamo preso del ferro ci faremo l'armatura di ferro saremo tutti epigridati di ferro nel prossimo video e ciao ciao